Entro la fine dell'anno il Consiglio regionale dovrà approvare il bilancio allo strumento di previsione economico più importante ma spuntano i primi ritardi e l'approvazione in giunta della delibera slitta provocando qualche malumore con la maggioranza che cambia il calendario, ritardo a quanto pare dovuto al lavoro informatico. La somma che la regione investirà a partire dal 2023 supera i 6 milioni di euro ma l'iter di approvazione sta subendo una decelerazione ma non secondo la maggioranza per la quale si è nei tempi. L'assessore Guido Liri, sorme al governo, ha preso l'impegno di portare a termine il suo lavoro il Consiglio e continua il suo impegno. Io mi considero il consigliere anziano, siamo nei tempi come tutti gli anni ogni anno il 13, il 14, anche il 15 dicembre viene approvato il bilancio, ci sono una serie di passaggi che devono essere fatti, è complicato così come è complicato al governo nazionale ma per il 15 il bilancio sarà approvato alla giunta e inizieranno i lavori come al solito la sessione bilancio per i consiglieri. Quindi i consiglieri d'opposizione forse hanno in questo caso di opposizione ma sono state anche loro al governo hanno memoria corta. L'opposizione però già affila le armi e anche se non ci sono cose ufficiali sarebbe spuntata tra la maggioranza una sorta di calendarizzazione degli impegni. Intanto sono in estremo ritardo, siamo al 13 di dicembre, non è mai accaduto che la giunta non ancora approvasse e portasse quindi in consiglio e nelle commissioni il bilancio di previsione. E poi c'è il grande tema, lo ribadiamo ancora una volta, delle carobollette, dello aiuto alle imprese, alle famiglie, al mondo dello sport, al sociale con la vita indipendente perché si sono liberate risorse, come dicevamo noi, con l'ammortamento in più anni dei debiti degli anni precedenti, sono 37 milioni di euro in più lì, più ci sono la scadenza e quindi il recupero delle risorse per i mutui, le vecchie cartolarizzazioni per altri 20 milioni di euro. Vogliamo sapere cosa intendono fare di queste risorse, noi faremo ancora una volta la battaglia sul carobollette per le imprese, per i cittadini, le famiglie, lo sport e la vita indipendente. Un dicembre tutto in salita per la maggioranza di centrodestra, con enormi difficoltà perché invece di attenzionare realmente le problematiche di famiglie e imprese che negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo hanno messo in ginocchio la nostra regione e il nostro territorio, sono ancora concentrati ed impegnati a risolvere le problematiche di una maggioranza che negli ultimi mesi, ma io direi anche negli ultimi anni, non è riuscita mai a sciogliere questo noso, questo contenzioso che li mette in difficoltà e li rende lenti di fronte alle esigenze e le problematiche degli abruzzesi.